Ehi Albi, come sei messo quei sentieri? Ciao, ah quei sentieri? Bene, 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 abbiamo fatto 50, 60, 40 chilometri di sentieri Quando vuoi venire a trovarci siamo su, ti aspetti nasù Perfetto Quando hai voglia siamo su Ok, va bene, bella Ciao, 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 ciao Pronto? Ciao Ciao Jessica Ho beccato qui Alberto e ha detto che su 40, 50 chilometri di pista sono pronte Andiamo domani? Bella, perfetto Ok, bella, allora domani Ok, bella, allora domani E questo sarà pronto tra poco Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti